Cristiana allora come va? Allora Cristiana facciamo una sfida oggi ok? Chi vince dopo sceglie dove si va a mangiare Senza scherzare chi vince sceglie ok? Quindi dobbiamo andare da cracco e andiamo da cracco Tu sei gioca a bowling? Ma sono andato due volte calma Allora ecco qui siamo dentro inizia così il bowling Luigi vediamo chi vincerà Dai Dome dai attenzione Sei carico vai riscaldati vai riscaldati fai esercizio Questa questa è l'esercizio giusto Attenzione Vai poi riscaldiamoci il braccio ok così Stai suonando il clacson con la mano Con calma con calma Troppo dietro Troppo dietro si Posizione Gambe Così Poi Mano clacson Bam Perfetto Quale scegli? Questa Andiamo Dovi Da fare rispera Vai attenzione mamma mia tu sfondi il pavimento così no ma puoi andare vai hai capito ma tu fai il pugno vai l'ho fatto 3 punti voi e perchè faccio l'effetto arredato, perchè faccio cosi barino, lo rendo in signa come si può dire il giro? lei sa che questa macchia valla, no? si lancia la macchina ah ok strike, non ci credo no per poco non ci credo 8 8 8 7 3 9 0 pallone verde, maglietta verde, dai vai vai tiro con la rincorsa adesso diventa virale se la palla non entra, entra lui diventa virale come farà di Alessandro dopo a TikTok però devi seguirla Alessandro su TikTok va rincorsa, attenzione ora vado pure oh oh 0 ah assinità posizione ovviamente buono ah buono è carico fuori 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 è carico eccolo lì ma non c'è ma non c'è fuori fuori per uno ma camminata a posto dai ah ce la fai ce la puoi fare piano piano due 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 punti calma calma ma già ti prepari da adesso con la palla no 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 ma questa è la tattica giusta posizione pallone a terra pallone a terra e poi col piede tiri capito vedi vedi i risultati vai fai l'uno fai l'uno no simone no oh gira sei parcheggiando e poi più in là vai concentrati concentrati vai fai così balletto la musetta da we sport ok vai la musetta di we sport buone io giro dalla telecamera per sbagli puoi fare lo spirito malo e invece no finito i 71 non è ancora finita aspetta stiamo girando fino alla fine non è finita ecco che parte ale sbagliare 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 c'è un problema alla pista si è rotta la pista no si è rotta la pista ma non ci credo il signore ha dato una seconda chance chance sprecata wow per lui dai per la gloria 7 a 1 bonzella di guadilla attenzione finisce finisce è finisce è finito è finito è il terzo posto è lui ci fa il suo posto è il terzo posto è il terzo posto mi spetta di mano mi spetta di mano è finisce così è finisce così vince ancora il signore quando tu è troppo forte troppo forte per tu eh sì è il re c'è poco da fare lui è stato l'unico a c'è andato vicino però messi e ronaldi visto che ho vinto io si mangia al mcdonald si mangia qua dici del vincitore paga pure il vincitore no io cerco solo il posto poi paga christian paga mi piace che paga christian paga lui dai dati ci sta a far vedere i dati che ti prendi è un mel anche di smack bacon spicy però big mac perché comunque mi recupera le calorie ma c'è detto che l'hai fatto così cagare devo comunque recuperare anche se ho fatto schifo tu che hai preso christian però il make of rap è una coprizzone ma è giusto come assaggio è regolare ho già mangiato a casa sono un po' per aver perso al burning vai assaggio vai questo è la commerciale del video come ha detto buon è buono è buono è normale ovvio che è buono come è gelato a te guarda l'ho potuto provare fa un po' cagare ma cos'è mix shake a vaniglia ma c'è un problema ma cos'è ma cos'è son d'ayers ah ok ma no dicevo io non è non è ma c'è questa muffa qua guarda io non mangio perché hanno consigliato dopo la vittoria di non mangiare mamma mia no perché ha mangiato troppi birilli ma vanno assaggio che morso com'è com'è visto che questo video uscirà dopo Sanremo che uno degli vincerà pronostico Angelina Vango Angelina poi la fregna di Anna Lisa ah si chiama proprio fregna Anna Lisa eh sì nome e cognome non hai capito per te gelier gelier grande gelier grande gelier solo cere Anna Lisa io dico Shipilier non lo so però speriamo speriamo giulier ma cos'è qua c'è qua dentro c'è dal bege olha qua cos'è poi si dice che la gente è tollerante guarda la magnaccia guarda Ahahahahah Basta un'ora per fare questo scherzetto Questa c'è qua e continui a indicare Lentamente Come scroccare cibo